Ciao, sono Carlotta e sono entrata a far parte di URMET da un mese come progettista meccanico. Il percorso di studio che ho affrontato è stato il liceo artistico in arti figurative e poi una laurea in design del prodotto. Per quanto riguarda la progettazione e il pensiero che c'è dietro un prodotto, assolutamente. Per quanto riguarda il lato degli strumenti che sono stati forniti è stato più carente. Quello che mi sento di dire è che nel momento in cui si capisce la propria passione e si vuole farne del proprio lavoro, di studiarsela a 360 gradi, quindi di capire sotto ogni aspetto il loro potenziale. Il perché ho scelto in realtà di fare questo lavoro in questo determinato ambiente è perché voglio veramente poter aiutare le persone attraverso la progettazione di qualcosa e rendere più semplice e più intuitivo anche un determinato movimento o un determinato prodotto. Un hobby che sto praticando particolarmente ultimamente sono gli escape room che trovo molto divertenti per quanto riguarda il fatto di essere stimolati da giochi diversi e poter passare anche una serata in compagnia facendo qualcosa di diverso.